Radioattività con Diego Fusaro, lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Stanno facendo assai discutere, con posizioni anche ampiamente divergenti fra loro, le parole recentemente pronunziate dalla dottoressa Viola e prontamente rilanciate su tutti i principali quotidiani nazionali. La dottoressa Viola abbiamo appreso a conoscerla principalmente nei due anni scorsi dell'emergenza pandemica, ovvero ella appariva come una delle più presenti voci nel dibattito di quella che chiamavo la cricca dei virologi mediatici superstar, di coloro i quali avevano accesso permanente al dibattito pubblico in quanto specialisti, virologi di professione o no che fossero, anche perché sebbene ho inteso la dottoressa Viola non è propriamente virologa di formazione essendo il suo titolo accademico un altro, ma poco importa questo. Il punto essenziale di cui mi preme discutere in questo caso sono le sue recenti dichiarazioni. Leggo sui principali quotidiani che ella ha detto che il vino nuoce alla salute e poco conta il fatto che se ne beva anche un bicchiere. Certo, più bicchieri si bevono e più diventa dannoso, ma anche un solo bicchiere è dannoso, ha precisato la dottoressa Viola. E non ancora soddisfatta di questa posizione radicale, ha altresì sostenuto che chi beve vino ha poi il cervello piccolo. In sostanza ci sarebbe una connessione fra il bere vino e l'avere poi il cervello piccolo. Posizioni radicali. Non ho gli elementi medico-scientifici per dire se siano vere oppure no. Ho gli elementi tuttavia per rilevare che questa crociata contro il vino solo ora si stia affermando curiosamente. In particolare abbiamo visto qualche settimana dietro come l'Irlanda abbia principiato ad ammettere la possibilità di etichette sulle bottiglie di vino in cui si precisa che il vino nuoce gravemente alla salute tanto quanto le sigarette. L'Unione Europea non si è opposta e adesso anche la dottoressa Viola inizia a sermoneggiare contro il vino. Che cosa sta accadendo allora? Notiamo per inciso che l'Occidente non ha iniziato un mese fa a bere vino. Al contrario è una pratica che accompagna la storia della nostra civiltà da millenni. Anzi potremmo dire che la nostra civiltà si sostanzia dell'elemento del vino con una valenza non solo legata al gesto materiale del bere e del piacere connesso ma anche all'elemento propriamente culturale. Pensiamo al cristianesimo ma pensiamo anche alla filosofia greca. A questo riguardo mi verrebbe spontaneo domandare alla dottoressa Viola se davvero si possa ritenere Socrate che nel simposio platonico beveva vino avente un cervello piccolo. Forse sarebbe una tesi difficile da dimostrare. In ogni caso a me pare di poter dire che i tecnocrati di Bruxelles abbiano intrapreso da tempo una crociata contro il vino che va a colpire non solo la questione economica essendo il vino un elemento portante dell'Europa e penso soprattutto alla nostra Italia ma anche alla Francia ma poi anche una questione culturale. Sì perché come ricordavo poc'anzi la nostra civiltà è incardinata sull'elemento culturale del vino. Ho già citato il simposio di Platone ho citato la civiltà cristiana insomma siamo alle solite l'attacco contro l'identità in nome della disidentificazione della produzione del neutro globalizzato disponibile a essere colonizzato dalla forma merce. Del resto quell'Unione Europea che si va peritando di segnalare che il vino nuoce alla salute non ha mai speso una parola se ricordo bene contro gli hamburger della civiltà del dollaro o contro i fast food americanizzati. Anzi quella stessa Unione Europea adesso va propalando come bontà inevitabile le cavallette, i vermi e anche la farina di grilli. Insomma siamo davvero sicuri che sia solo una questione di salute? Radioattività con Diego Fusaro Radioattu Grazie.